La sentenza è della Commissione Tributaria Siciliana e risale a febbraio 2012. La Tarsu sui garage, cantine e solai è illegittima, poiché non è plausibile la produzione di rifiuti in un luogo dove la presenza dell'uomo è sporadica. Dal calcolo della Tarsu, dunque, devono considerarsi esclusi quei locali il cui uso è del tutto saltuario ed occasionale, e nei quali, comunque, la presenza dell'uomo è limitata temporalmente a sporadiche occasioni e a utilizzi marginali. Se un garage, insomma, si usa soltanto per lasciare l'automobile, anche a volerlo, l'uomo non avrebbe neppure il tempo o l'opportunità di produrre rifiuti. Ma sono ancora molti i comuni che continuano a far pagare la Tarsu sui rifiuti solidi urbani anche ai garage a uso privato, tra i quali anche il comune di Sciacca. Il caso ci è stato segnalato da un cittadino saccense che ha chiesto al locale ufficio tributi di saperne di più e di avere applicata la sentenza. I cittadini siciliani che volessero infatti opporsi ai versamenti possono chiedere al comune di appartenenza la sospensione in autotutela dei pagamenti, richiamandosi appunto alla sentenza, in quanto la norma non si applica automaticamente, ma ha valore per ogni singolo ricorso presentato. La commissione tributaria siciliana sta inoltre dalla parte dei cittadini perché nella sentenza ha stabilito che il contribuente non ha l'onere della prova, ossia di dimostrare che il garage non produce rifiuti, ma il fatto stesso che il comune classifichi quel determinato immobile come garage lo esonera da qualsiasi richiesta. Adesso dunque spetta ai comuni adeguarsi e sottrarre dal conteggio della Tarsu garage, solai e cantine, cosa che in tempo di crisi rappresenterebbe sempre una piccola boccata d'ossigeno per le polverose tasche dei contribuenti. Sono già diverse infatti le associazioni a tutela dei consumatori che hanno chiesto agli enti pubblici di tenere conto delle ultime sentenze e conseguentemente procedere al ritiro delle cartelle errate ed illegittime e contestualmente provvedere al rimborso di quanto indebitamente percepito, comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria a coloro che hanno già provveduto al pagamento delle annualità. Inutile dire che i comuni siciliani hanno presentato a loro volta il ricorso contro questa sentenza e attendono il verdetto della Cassazione, che molto probabilmente però darà ragione a quanto già stabilito dalla Commissione Tributaria Regionale.